Faremo un menù a quattro portate, dall'antipasto al dessert, valorizzando i colori nei piatti. Oggi faremo una capesanta scottata con broccoletti, aglio e peperoncino su del del chips croccante di Topinambur e crema. Poi come primo abbiamo un risotto alla carota, in questo caso arancione, e giochiamo con un burro fatto alla carota arancione e come guarnizione usiamo una carota viola. Abbiamo un contrasto fra due colori. Poi facciamo un cotto codo di tonno, con del gambero rosso di mazzara crudo e una crema di ostica e un ostica fritta. Quindi abbiamo il contrasto dei colori. E poi facciamo una frolla di polenta, quindi andiamo sul giallino, con una crema di castagne e della salsa al melocrano. Oggi la materia prima, ma anche da sempre, è molto importante perché a 360 gradi il piatto è di altissima qualità, se la materia prima è medio alta.